Ha qualche particolare capacità? Oh sì, certo. Io faccio le voci. Cosa intende dire con faccio le voci? Bella signora, io faccio voci faccio. Ciao, sono Emanuella Pacotto. Ti voglio mostruosamente. Ciao, sono Luca Bottale. Io il mondo brucerai per te. Ah, chi sono? Figaro! Mi chiamo Giuseppe Pirovano, Pino Pirovano. Oramai nel mondo del doppiaggio sono conosciuto così da molti anni. Sì! Sono Gianluca Iacono. E vi devo dire delle cose di me, suppongo. Cercavamo sulla terra una vita intelligente. Ops, abbiamo sbagliato. Sin da bambino, quando ero piccolo, sono sempre stato appassionato di cartoon animati e fumetti, tutt'ora. Però quando ero piccolo, e io giocavamo magari a scuola a dire ah, io sono lui, io sono lui, io sono lui. E allora cominciavo a chiedermi ma come faccio io a essere veramente lui, dato che non si può fondamentalmente? Allora pensavo, però qualcuno la voce gliela deve dare a questi. Il doppiaggio è nato a Roma. Ha preso poi molto piede durante il fascismo proprio perché era bandita. Si cercava, insomma, di evitare qualunque cosa esterofila per cui veniva doppiato tutto, tutto. Quindi si diceva Guglielmo Shakespeare, si diceva, insomma, tutto veniva italianizzato e anche ovviamente i film venivano doppiati tutti quanti. Questo ha fatto sì che a Roma nascessero, nascesse una scuola di doppiaggio. In fin dei conti hai trovato un altro amico, ecco tutto. Più male c'è. E io odio. Non è necessario, lavoriamo insieme. Hai sbagliato settimana. Soltanto la prossima settimana uscirò da questo dannato bozzo. Ho cominciato a cambiare proprio la qualità del doppiaggio alla fine degli anni 60-70 con la, diciamo, seconda generazione dei doppiatori ma soprattutto perché dovevano adeguarsi ai nuovi prodotti del mercato straniero soprattutto di quello americano. Prendiamo alcuni esempi tipo il famoso deniro di Taxi Driver doppiato da Amendola. E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui? Dì ma con che credi di parlare tu? Amendola in qualche modo, non dico che è stato proprio il capostipide ma è stato uno dei primi a trovare una nuova modalità del doppiaggio quindi meno pulito, meno impettito, più sporco, più lavorato, più quotidiano. A Milano arrivavano gran cartoni animati e quelli noi abbiamo imparato a fare e rivendico anche il fatto che abbiamo imparato a farli molto bene. Molto spesso una diatriba del doppiaggio italiano dei cartoni animati giapponesi è che si stravolgono le storie. Veramente poche settimane fa ho scoperto che le storie vengono stravolte direttamente da chi li traduce, dal giapponese all'inglese. Per cui in Italia arrivano già stravolte. Ma a Milano si sono fatti anche degli ottimi prodotti seriali, di telefilm, tipo ai confini della realtà, per citarne uno. È la regione dell'immaginazione. Una regione che si trova ai confini della realtà. Un doppiatore deve per forza essere un attore. Deve essere in primo luogo un attore. E seguendo le indicazioni del direttore deve essere il più chiaro, espressivo, comunicativo possibile in spazi ristretti. È la stessa atmosfera di quando c'è l'allarme di sicurezza. Il direttore di doppiaggio sceglie una rosa di persone da proporre al cliente in genere due o tre per voce. Si parla dei due o tre personaggi protagonisti o meno, se non ce ne sono così tanti. Al di là di questo, quando invece non esiste la necessità di un provino sui protagonisti, la scelta delle voci viene compiuta in toto dal direttore di doppiaggio. No, è tutto a posto, mister Quaggott. Continui la cura per altre due settimane e vedrà che va tutto bene. Arrivederci. Signorina, prima di far entrare l'altro paziente devo dirle una cosa importante. Il lavoro dell'adattatore, della dialoghista, è molto importante perché un adattamento ben fatto rende la vita facile al doppiatore e al direttore di doppiaggio. Un altro compito del direttore è anche quello di seguire la post-produzione, vale a dire, assieme a chi sincronizza e a chi è mixa, avere un'idea chiara del lavoro in modo tale da poter dare delle indicazioni soprattutto a chi mixa per cercare di rendere chiaro, fruibile, comprensibile, efficace il doppiaggio con quella che è la colonna internazionale fatta di effetti, di rumori e di suoni. è il regista, è il regista di questo settore. Credo anche che il doppiaggio italiano sia uno dei migliori al mondo. Non lo faccia. Indietro. Non faccia lei un altro passo. Avanti. Mi dia la mano, l'aiuto a tornare a bordo. No. Di solito quando si doppia si fanno i campi. Sono le distanze dal microfono, no? Se tu vuoi fare campo, sei lontano in una situazione che non sia esterno ma in un interno tu crei la stanza. Il rec c'era un assistente in sala che col microfono girava dentro la sala con noi che ci muovevamo. Una cosa che non si fa di solito. faceva degli uomini. Un momento, calma. Lei ha fatto la chiamata? No, no. Lei ha chiamato? L'ho chiamata l'ho fatta io. Ha chiamato lei. Visto che nel film era tutto girato con la camera a mano e quindi doveva dare proprio l'impressione che tu eri lì e tutto quello che vivevi lo vivevi in quel momento lì per entrare proprio dentro perché quello era il giochetto. Questa è la dimostrazione che se ci vengono dati i mezzi per farlo possiamo fare bene anche molto bene. Ecco i rapporti con i romani hanno doppiato Alvi e hanno chiamato un altro. Vabbè, pazienza. Voi sapete anche cantare. Quello non era cantare. Questo è cantare. Se un attore sa cantare si cerca di affidargli e anche la parte del cantato. La fuori che darei non so solo un giorno fuori Massimo Ragneri è doppiato il globo di Notre Dame e in questo caso hanno avuto una grossa fortuna perché hanno trovato una voce un attore che sapesse anche cantare molto bene e che fosse anche un nome famoso. qui troverai il tuo passato il compito mio è finito non posso sperare vengono messe dei personaggi come possono essere stati appunto il caso di Fiorello la Veronica Pivetti che però ha avuto un percorso di doppiaggio grosso alle spalle per cui diciamo ritornava nel suo. Miserabile Rospo dovrei mangiarti seduta stante Le differenze fondamentali tra il doppiare un film un cartone animato e una pubblicità sono date soprattutto dalla qualità e dalle tempistiche Se si doppiano degli umani degli attori e delle attrici in carne ed ossa ad esempio sarà fisicamente meno faticoso ma sarà più difficile interpretativamente perché bisognerà essere molto sfumati nell'interpretazione Per quello che riguarda la pubblicità io ne faccio ne faccio tanta e la detesto nel senso che lì proprio rientri in dei canoni pubblicitari Barbie principessa dell'isola perduta la magia dell'isola ti aspetta Se è un doppiaggio di voice over è proprio un modo di comunicare diverso in quel caso tu hai la responsabilità di far arrivare un prodotto e quindi di puntare sulle qualità che vengono scritte nel testo dal creativo di quel prodotto e quindi dare un peso diverso alle parole che magari normalmente nella vita tu non diresti in quel modo Secondo me il cartone animato ti lascia molto più libero di inventare poi è vero che io ho capito che soprattutto per quello che riguarda i fan dei cartoni giapponesi loro amano molto che il doppiaggio si attenga all'originale Che cosa? Ho capito bene? Goku è in viaggio per Namek e fra poco sarà qui Prendi per esempio un personaggio come può essere Bulma di Dragon Ball o Sakura in Naruto in realtà sono personaggi che nelle varie serie in realtà hanno un cambiamento di carattere di immagine a volte veramente incredibile Il cartone non respira banalmente per cui ha dei ritmi alle volte che sono molto frenetici per cui bisogna rubare i fiati alle volte ci sono dei monologhi lunghi dove questo qui continua a fare così soprattutto nel caso di cartoni giapponesi per cui uno deve tecnicamente rubare i fiati È più faticoso perché il cartone è bidimensionale non ha vita in sé glielo dobbiamo dare noi Con la difficoltà che ho detto un cartone richiede spesso delle voci variate delle caratterizzazioni di conseguenza l'attore che doppia un cartone animato si trova ad avere a volte molte difficoltà nel poter sostenere anche quel tipo di voce Come ci si prepara al doppiaggio di un personaggio? Non ci si prepara Nel senso che il più delle volte tu fai un provino ma in genere su un anello cioè un pezzettino che dura 20-30 secondi del cartone e quando tu arrivi ti viene spiegato in tre parole qual è il tuo personaggio Anche se il lavoro viene fatto in tre quattro cinque sei turni tu comunque nel turno dopo devi avere le stesse intenzioni e devi trasmettere le stesse cose che hai trasmesso due settimane prima E poi sai ci sono delle differenze minime a volte nel senso che ci sono dei personaggi in cui magari sono un po' più giovani e quindi beh quindi tiro su un po' la voce in questo modo la tengo un pochino più di testa e faccio il ragazzino oppure se uno con la voce molto bassa allora la basso semplicemente un pochino così beh sai erano giorni difficili la tengo un pochino più bassa questo dipende se parliamo di cartoni animati o se parliamo di film visto che per molti anni qui abbiamo fatto soltanto cartoni animati molte donne si sono specializzate nel fare la voce del bambino o della bambina del ragazzino alcune anche molto bene con un tasso di credibilità molto alto magia della musica crea l'armonia però veramente non è un lavoro dove dice ah tac metto il timbro faccio scattare voce 32B oddio è semplice comincio a parlare come parla puzza e comincio a dire ehi tu puzza vieni qui per favore poi c'è questo del famoso ciugopaciugo ed è insomma checcheggio tanto e quindi ha tutte queste cose così con questa vocina no ma davvero dunque ragazzi adesso andiamo di là a fare questa cosa passo l'aspirapolvere poi che carino oh un uomo oh e fa tutte queste cose ride piange checcheggia tantissimo è più rosso del sangue è sepolto sotto la marea del tempo in nome della pace della giustizia io faccio appello ai poteri più remoti dell'oscurità perché mi aiutino a distruggere per sempre i miei nemici e tutti coloro che oseranno attaccarmi rendendosi invincibili fulmine rosso Rina Lina di Slayers rimane il mio personaggio proprio è là in cima un personaggio che mi è caro perché è stata la prima soddisfazione lavorativa il primo protagonista fatto in una serie di cartoni io avevo iniziato nell'87 poteva essere l'88 al massimo l'89 ecco era Teddy Ruxpin che era uno sacchiotto Teddy Ruxpin sa che se cercherà un tesoro troverà certo per me fu come un risultato raggiunto feci questo provino senza nessuna aspettativa poi le voci furono scelte in America il caso volle che la mia voce fosse la più simile di quelle proposte all'originale per cui mi diedero questo ruolo all'inizio io ero terrorizzato un altro ruolo che sarebbe stato caro a molti era un personaggio che si chiamava Sami della luce in un altro cartone giapponese i cinque samurai potere della luce poi non so c'è Ippo di Mermaid Melody che è un un pinguino e parlava e voi siete delle principesse sirene e così è vero che viene la faccia da scemi quando poi si fa una stavoccia aspetta siamo in un bel guaio siamo in un bel guaio che facciamo che facciamo un mito abbiamo detto Jesse dei Pokémon che è un po' così un po' preparatevi a passare dei guai Team Rocket riporta la velocità della legge a queste cose porta il terrore a chiunque la senta quando l'ascolti ogni speranza è spesa siamo Jesse e James il mio il mio sì che è un bel nome ogni benefattore uscirà sconfitto e pesto siamo il Team Rocket e lo capirete presto pronto a prestare le cose la voce narrante di Norsana era questo sì questo pipistrellino bianco è l'ora del bagno e dopo il bagno ristoratore tu non capisci mai niente devi capire che devi fare queste cose insomma basta fine punto gioco la carta trappo la forma del caos mi è sufficiente attivarla per diventare più forte Marcello inizialmente è molto bimbo con l'ascente francese quindi parla così solo che poi si indemonia magari a sto coso a sto alieno che lo possiede e allora la voce si abbassa un pochino però rimane più cattiva gioca le carte in questo modo e si atteggia e fa comunque è bastardo poi ci sono personaggi tipo Nami di One Piece Nami attenzione adesso arrivo no beh però forse è meglio se me ne vado ciao ciao torno dopo sta solo mentendo mio smascherato sentito che cosa ti avevo detto boh io Dodoria boh sarà stata una roba di questo genere credo guarda che la voce di Vegeta è questa eh come Vegeta tu qui ciao come va è da tanto che non ci si vede vero Dodoria maledetto carota ti ho detto mille volte che ti amo io ti amo e quindi ti mando una bella onda energetica questo permettimi mi aiuta per fare per fare una cosa per fare un saluto a Paolo Torrisi però per me è e rimarrà sempre Maurizio Torresan ah ora si che sto bene non c'è niente di meglio di questa vecchia pratica di vita è stato un grandissimo doppiatore un grandissimo direttore di doppiaggio purtroppo si è andato via in punta di piedi e la cosa ci ha procurato almeno a me ha procurato molto dolore e ora mettiamoci in viaggio pronti per il volo sono quei personaggi a cui tu comunque ti ispiri per serietà per professionalità per amore verso questo lavoro che bello fare gli scherzi sai e combinare del guai cominciate a credere alla storia di fantasmi ma star ci siete dentro Pietro Ubaldi che per quanto riguarda Milano secondo me è una delle voci più fantastiche che ci possono essere perché lui ha dalla sua la versatilità enorme della sua voce e della sua recitazione io ho avuto la fortuna di essere all'EGO con lui tantissime volte è stato diciamo la persona alla quale io ho rubato di più scusa il mio preferito poi è Roberto Pedicini che è la voce di Jim Carrey buon pomeriggio buona sera e buonanotte di Kevin Spacey tutto è cominciato a New York sei settimane fa di Leonida in 300 questa è Sparta mi piacciono quelli un po' bastardi quelli tipo non mi ricordo quello che c'è in Pulp Fiction no nelle Iene che è bravissimo però non mi viene in mente che è quello che stacca l'orecchio al poliziotto continuerei ad abbaiare a lungo che è gnolino o comincerei a mordere i novelli doppiatori i giovani doppiatori in questa fase del doppiaggio hanno qualche difficoltà in più di quanta ne abbia avuto io quando ho iniziato vent'anni fa c'era decisamente più tempo per poter fare la cosiddetta gavetta ora alcune tempistiche lavorative richiedono la capacità di essere come dire bravi subito o comunque aderenti immediatamente a quelle che sono le richieste del doppiaggio sicuramente l'esperienza si nota la differenza assolutamente sì però non te la fanno pesare nel senso che anzi cercano di aiutarti il più possibile a capire a fare magari la battuta nel modo giusto questo lavoro lo si impara soltanto facendolo è la cosa che dico sempre ai ragazzi il corso va bene perché vi dà la possibilità di sperimentarvi al microfono di provare a doppiare effettivamente degli anelli in situazioni simili molto simili a quelle che poi avverrebbero avverranno sperabilmente in una sala di doppiaggio che significa non lo farà non creda di potermi venire a dire quello che farò quello che non farò lei non mi conosce beh l'avrebbe già fatto adesso quando lo rifacciamo comunque ai scopi nostri diciamo così didattici per imparare aiutateci voi li fate tenendo presente ripeto che essendo all'aperto il trattamento dei campi è un po' particolare e varia da loro e quindi possono fare esperienza in questo senso avere l'impatto col microfono con qualcuno fuori che ascolta e giudica quello che fai con un direttore fuori che ti corregge sia tecnicamente che interpretativamente recentemente sono andato in un liceo artistico durante un autogestione perché mi hanno invitato insomma c'era questo ragazzo che conosco mi ha detto dai vieni vieni allora sono andato lì e ho doppiato una scena di vegeta dal vivo in quest'aula in cui c'erano tutti questi ragazzi che erano avuto vabbè dai 16 ai 19 anni dai 15 ai 19 mi sentivo Johnny Depp io sono il grande vegeta domanda finale io devo dire nonostante faccia la doppiatrice ci sono delle cose che un po' per vederle il giorno dopo che sono uscite un po' perché con i dvd insomma mi piace vederle in lingua originale e molte volte trovo che comunque il doppiaggio porti via delle cose se il prodotto iniziale è un film per il cinema con straordinari attori e quindi io il doppiaggio nonostante lo faccia come mestiere dico cribbio però poterlo sentire in lingua però mi rendo conto che quanti potrebbero sentirlo in lingua so io il 2% il 3% detto questo ci salutiamo e baciamo lei si considera molto divertente un po' mi sento un gran figo no si lo credevo c'era un tempo che io mi trovavo divertente però oggi lei mi ha aperto gli occhi grazie ah cosa fai il doppiatrice grazie a tutti